Abbiamo accettato la richiesta del sindaco di Casarza Ligure di svolgere le funzioni di polizia locale in forma integrata. Con questa convenzione quindi ci sarà uno scambio anche in caso di necessità delle varie forze di polizia locale per una maggiore integrazione del servizio di sicurezza e la viabilità del nostro territorio. Con questa convenzione il Comune di Chiavri si conferma città capofila e mette a disposizione il proprio know-how per un management moderno e un'infrastruttura in grado di integrare anche in futuro ulteriori servizi di videosorveglianza. Abbiamo appena vinto un bando della Regione Liguria di 60.000 euro per un progetto integrato che prevederà la gestione delle telecamere e anche del Comune di Lavagna per cui controlleremo un territorio di oltre 60.000 abitanti. Noi ringraziamo veramente l'attenzione che ha avuto il Sindaco di Capo e tutta l'amministrazione di Chiavri perché il tema della sicurezza è sempre più importante per i nostri cittadini. Avere un punto di riferimento nel Comune di Chiavri quindi una gestione associata di questo servizio con il Comando a Chiavri darà sicuramente delle opportunità maggiori al nostro Comune per una maggiore sicurezza. Il fatto anche di poter integrarci con un sistema di videosorveglianza e l'utilizzo di tutto il personale soprattutto delle conoscenze e della formazione che ha un comando come quello della Polizia Municipale di Chiavri è sicuramente un valore aggiunto per la comunità di Casarza Ligure. L'integrazione di quanto ha detto il Sindaco di Chiavri, Marco Di Capo e anche quanto ha detto il Sindaco di Casarza va rilevato come un discorso che interessa i due comuni e non solo i due comuni ma tutto il territorio per circa cinque anni in coincidenza con eventi naturali che possono avvenire. Mi avrebbe ricordato quello perché è un discorso di sicurezza che l'ha portato avanti e che portiamo avanti dal tempo. Noi come Comune di Casarza Ligure abbiamo ricercato questa collaborazione col Comune di Chiavri del quale ringraziamo il Sindaco di Capo. Noi siamo un piccolo Comune però abbiamo intenzione nel 2020 di investire tantissimo sulla sicurezza vorremmo anche, prenderemo anche dei nuovi agenti di Polizia Municipale e di conseguenza investiremo sulle telecamere e quindi poi ci sarà questa interconnessione con i vari comuni e noi collaboreremo con tutti i comuni specialmente con Chiavri ma anche con Sestri e di conseguenza con Lavagna in modo che tutto il Tiguglio sia connesso.